Vincono tutte le big negli altri recuperi della giornata di campionato. Il campo basso a Genzano di Roma infatti accorcia sul Castelnuovo che rimane comunque in vetta alla graduatoria. Lo fa battendo la Cinzia al Balonga 1-2. I molisani sfruttano l'avvio di primo e di secondo tempo con l'ex notaresco Kevin Candellore, autore di una doppietta che spiana la strada all'undici di Mirko Cudini, che trema per la rete di Cardella al diciannovesimo della ripresa, ma riesce comunque a portare a casa l'intera posta in paglio, agganciando il riete al secondo posto a quota 24 punti, a meno uno dai nero-verdi di Guido Di Fabio. Un'altra big ma tardata per via dei tanti match saltati è la Re Canatese che rulla l'Olimpio agnonese con un poker in trasferta che non dà scampo agli altomolisani. I leopardiani aprono le danze con Cursi, il raddoppio alla mezz'ora del primo tempo con il bomber Manuel Pera. Nella ripresa prima Scognamiglio e poi Piccioni arrotondano il punteggio. Giallorossi che si riscattano dopo lo stop di domenica e salgono a quota 18 punti, a meno uno da quel Vasto Girardi che vince nettamente tra le mura amiche contro il Castelfidardo. 4-1. A preguida dopo un quarto d'ora raddoppia Mercai a fine primo tempo. I marchigiani si destano con Fermani nella ripresa prima del trisse del poker, prima dal dischetto con Salatino e poi con Mele quando mancano 5 minuti al novantesimo. Vasto Girardi che dunque vince e sale a quota 19 punti in graduatoria.